Le belle auto non vanno d'accordo solo con le belle donne, ma anche con la sicurezza stradale e l'educazione alla responsabilità quando ci si mette alla guida. Lo sanno bene gli organizzatori del Gran Premio di Bari, in programma tra l'1 e il 3 maggio. Tra gli eventi collaterali che precedono la rievocazione, con meravigliose auto d'epoca, anche un'intera giornata finalizzata a insegnare il rispetto delle regole della strada ai più piccoli. Bambini delle elementari, protagonisti di una lezione speciale tenuta dall'Old Cards Club, nella sala Miurà, tra scintillanti bolidi dal fascino antico. Guidare un'auto d'epoca o moderna non è importante, conta sempre però essere consapevoli che si può far male a qualcuno e farsi del male. L'ebrezza della velocità deve andare di pari passo con la consapevolezza del pericolo e il rispetto del codice della strada. Se si parte dall'inizio, quindi dalle classi più basse, quinte elementari, prima media, si inizia a insegnare quella che è realmente la sicurezza sulla strada, quindi come si sta essendo pedoni e soprattutto rispettare le regole della strada e del codice della strada, che è la cosa più importante. Per la sicurezza oggi ci sono anche dispositivi all'avanguardia montati sulle automobili, ma l'attenzione deve sempre essere alta. Le automobili che adesso con la nuova tecnologia, quando sono su strada e c'è un qualsiasi ostacolo, sia pedone ma anche biciclette, si bloccano in automatico. La nuova tecnologia che avanza, però l'attenzione sulla strada è la cosa più importante.